Ma ce l'hai un cervello? Secondo te io dovrei dormire in questa merda di ripostiglio. E mi ci vedi a cercare di pisciare in quel tuo cesso da casa per le bambole? Lo so, Mr. Crash, questa è la peggiore camera dell'hotel. Sono assolutamente d'accordo, ma non abbiamo nient'altro. Sono venuto a farle omaggio di una bottiglia di champagne, con le scuse dell'hotel. Sì, sai che ci fai con quella merda di champagne? Allora preferisci dei cioccolatini? Se ti... voglio che mi ascolti. Che mi ascolti attentamente. Io faccio una telefonata, una sola telefonata. E il tempo che ti cambi la camicia, io mi sono comprato il tuo hotel di merda. Andiamo. Un momento, no, 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 mi piace. Sì, mi piace. Ok, prendo questa. Ah, no, no, Mr. Crash, questa suite è occupata. L'ospite è di sotto a firmare autografi. Perfetto. Esci subito dalla mia camera. No, 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 no... Ah, no, no. Oh...